In questo numero del Salus Tg, Fnomceo e Anao unite contro i tagli verso lo sciopero. Dalla Fondazione Gimbe, la bussola italiana per la qualità e l'appropriatezza. L'ormone dello sport fabbrica anche le ossa a scoprirlo, ricercatori italiani. I medici italiani, in tutte le loro rappresentanze, proclamano lo stato di mobilitazione generale. L'annuncio in una nota dell'Afnomceo, la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici e degli Odontoiatri. Il grido unitario è basta con i tagli. È l'ora che il Presidente del Consiglio, così come ha annunciato di voler cancellare i muetasi, dica agli italiani una volta per tutte se intende o no mantenere in vita il sistema sanitario nazionale, equo, solidale ed universalistico, implementando i livelli di assistenza. Pronta l'adesione della Nao Assomed, la cui direzione nazionale, convocata per il 25 settembre, sarà chiamata a sostenere le iniziative programmate, dichiarando lo stato di agitazione della categoria fino allo sciopero nazionale. Qualità e appropriatezza, fatti non parole. È il monito della Fondazione Gimbe che, in un momento storico in cui la qualità dell'assistenza diventa protagonista per garantire la sostenibilità dell'SSN, pubblica la versione italiana delle linee guida Squire 2.0. Una sorta di bussola per indirizzare istituzioni e professionisti nella pianificazione, conduzione e pubblicazione di progetti per migliorare la qualità dell'assistenza sanitaria. Esiste un ormone fabbrica ossa e il corpo lo produce praticando sport. Questa, la scoperta tutta italiana, è esito di una ricerca durata tre anni. Lo studio ha definito il meccanismo con cui l'irisina, il cosiddetto ormone dello sport prodotto dall'attività fisica, già conosciuto come bruciagrassi, crea anche tessuto osseo. Per salvaguardare i risultati della ricerca, gli autori della scoperta hanno depositato un brevetto sulla possibilità di utilizzare la molecola per la cura delle osteoporosi.